Vieto nelle spalle, perché l'ha proprio aspettato e poi Biabiani mette un grande pallone, anche se ti devo dire, gol di petto, ma Cardenzi in questo caso poteva far meglio. Forse non si aspettava la forza di questo cross, si aspettava un cross più morbido, invece Biabiani mette questa palla tesa.